Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento con Campolungo, gli approfondimenti di Webmart, oggi in collegamento Skype il segretario provinciale della CGL Roberto Alosi che ringraziamo intanto per la disponibilità. Buonasera segretario. Buonasera a voi e a tutti i vostri telespettatori. Allora intanto cominciamo con la notizia più fresca in assoluto, la presa di posizione della CGL di pochissime ore fa, si faccia subito qualcosa, non c'è un minuto da perdere, il contagio ancora di un altro medico e di un infermiere al pronto soccorso dell'Umberto I che fino a qualche ora fa hanno svolto la propria attività al pronto soccorso privi di adeguati dispositivi di protezione individuale e gravissima. Una denuncia forte, c'è appunto un altro caso di contagio, ci sono stati quelli dei giorni scorsi sempre al pronto soccorso, poi quelli del reparto di oncologia che ovviamente hanno creato allarme, non si può più attendere in una nota che ha fatto appunto poco fa la CGL, si parla di una situazione intollerabile che insomma in qualche modo bisogna correggere. L'ASP diciamo che è corsa in ripare e di poco fa anche un comunicato dell'azienda sanitaria provinciale che annuncia tamponi per tutto il personale sanitario dell'azienda. Qual è la situazione segretario in questo momento? Ma guarda, quello a cui stiamo assistendo in queste settimane è davvero sconcertante. Una catena infinita di errori, di superficialità, di disorganizzazione, di procedure sbagliate, non omogenee, insomma una linea di comando che fa acqua da tutte le parti. Noi abbiamo sprecato due settimane di vantaggio che avevamo avuto e abbiamo nei confronti delle regioni del nord più sfortunate e questo è un errore imperdonabile. Quello che sta accadendo al pronto soccorso in fondo è quello che abbiamo provato a denunciare da settimane con tutti gli strumenti a nostra disposizione e un allarme che abbiamo provato a diffondere nei confronti di tutti i soggetti preposti a tutelare la nostra salute pubblica, ma che fino a questo momento è caduto nel vuoto. Ad oggi la situazione al pronto soccorso nelle strutture di prima necessità registra addirittura quattro medici del pronto soccorso contagiati, fra cui il primario, un infermiere già contagiato e da notizie che abbiamo di queste ore addirittura ci sono ancora quattro infermieri a casa più un altro medico del pronto soccorso a casa con sintomi di febbre che lasciano purtroppo pensare al peggio. Ecco, io credo che di fronte a queste incapacità davvero occorre intervenire con la massima urgenza. Fino a questo momento la nostra provincia è stata toccata in maniera drammatica dall'emergenza, ma non è ancora giunto il momento della massima emergenza. Bisogna correre a ripari immediatamente. Qualcuno lo deve fare, perché è evidente, credo ormai a chiunque, che la catena di comando direzionale di questa emergenza non è in grado di affrontare le necessità che stanno affiorando giorno dopo giorno. E allora il nostro appello che continuiamo e reiteriamo è quello di avviare immediatamente la sanificazione dei locali come quelli del pronto soccorso, di provare a fare finalmente i tamponi a tutti gli operatori sanitari. Si è perso un tempo preziosissimo e non è più possibile, come dire, attendere oltremodo. Ecco, credo che su questo il prefetto, il sindaco, le autorità preposte non possano non rispondere con immediatezza e con una serie di provvedimenti che pongano un rimedio ad una situazione che è di vero allarme sociale. Allora, segretario, provo un po' a fare anche l'avvocato del diavolo. Non è che i tamponi non si sono fatti perché magari non c'erano i reagenti che invece pare adesso siano finalmente arrivati in Sicilia? Ma guarda, è lo stesso ragionamento dei dispositivi di protezione individuale che certamente scarseggiano, ma anche lì io credo che di fronte ad una scarsezza anche di risorse diagnostiche di questo genere era necessario ed è necessario approntare un piano di razionalizzazione degli strumenti a disposizione, allocandoli proprio laddove era necessario in primissima battuta allocarli, cioè fra tutti gli operatori sanitari del pronto soccorso, fra tutti i soggetti e gli operatori sanitari che sono in prima linea. Il fatto che questo non sia stato ancora espletato fino a stamattina è una mancanza gravissima, per cui io credo che il direttore generale, l'assessore regionale razza, il presidente musulmanici piuttosto che fare dichiarazioni propagandistiche debbano occuparsi rapidissimamente della situazione sanitaria e in questo caso specifico di Siracusa fornendo gli strumenti di dotazione di diagnosi minimi perché si metta in sicurezza l'intera comunità. Il ruolo del Covid team allora? Ma guardi, il ruolo del Covid a noi non è dato sapere per la verità che cosa stia accadendo, così come non c'è stata data la possibilità di sapere se esiste un piano straordinario di emergenza sanitaria, se esiste, in che modo è stato articolato, in che modo è stata coinvolta la comunità circostante. Io ricordo che c'è ancora oggi un grande fermento in alcuni territori della nostra provincia, vedi Augusta e Noto che hanno subito traumaticamente alcune scelte negli ospedali di riferimento senza alcun coinvolgimento. Io penso che l'informazione in questa fase sia un'arma importante da utilizzare, non solo per il diritto che la comunità ha di sapere come sta agendo la struttura sanitaria, ma proprio per ottenere l'obiettivo di sconfiggere un nemico così invisibile come il virus, è necessaria un'informazione adeguata. Ecco, questa è mancata, continua a mancare, c'è un atteggiamento di autorreferenzialità dell'ASP che è davvero intollerabile e qualcuno, deve naturalmente prenderne atto ed intervenire. Senta, dicevamo all'inizio che l'ASP proprio poco fa, nel primo pomeriggio di oggi, ha diffuso una nota con la quale comunica che è stata disposta l'esecuzione del tampone a tutti, leggo testualmente, a tutti gli operatori sanitari nel rispetto delle priorità indicate nell'ordinanza del Presidente della Regione, grazie all'arrivo in Sicilia dei reagenti e alla possibilità dell'azienda di farli processare dal laboratorio privato accreditato di Avola e dal laboratorio dell'ospedale di Siracusa. Umberto I, che partirà nell'imminenza, i referti dei tamponi eseguiti saranno restituiti in poche ore. Può bastare questa rassicurazione secondo lei o no? Ma guardi, l'ASP in queste settimane lo ha già fatto più volte, mente sapendo di mentire. Fino a questo momento nessun tampone o pochissimi tamponi sono stati fatti agli operatori sanitari, non ci sono risposte in questo senso e malgrado il tentativo dell'ASP di accreditare un'immagine assolutamente efficiente del servizio sanitario anche attraverso una serie di dichiarazioni e di video farlocchi, finti, assolutamente offensivi per l'intelligenza collettiva, l'ASP continua a dire delle cose che non sono vere. Ancora fino a questo momento gli operatori sanitari del pronto soccorso e non solo quelli del pronto soccorso, ma anche quelli del 118, delle guardie mediche, cioè delle prime linee, non hanno avuto ancora risposte ai tamponi. Sull'altra vicenda mi preme fare una sottolineatura, i tamponi. Allora noi siamo in un contesto, in un territorio il nostro dove l'offerta sanitaria del territorio è per il 32% affidata ai privati. Mi chiedo che cosa si sta facendo per precettare le strutture private a partire dai laboratori di analisi? Perché ci si rivolge solo ad un laboratorio di analisi, qual è quello di Avola e non si chiede l'assoluta convergenza di vari laboratori di analisi della provincia convenzionati con l'ASP? Sono delle domande che vorremmo porre all'ASP, ma che non ci viene data la possibilità di farle e soprattutto non ci vengono date risposte convincenti. È tempo che queste risposte arrivino. Segretario, intanto le chiedo se può dispostarsi sulla sua destra per essere al centro dell'immagine. Ecco, benissimo così, lo faccio in diretta. Nei giorni scorsi voi avete presentato anche un esposto in procura. Cosa vi aspettate da questo esposto adesso? Ma guardi, l'esposto è stata, come dire, la conseguenza di questo silenzio assordante che abbiamo registrato attorno a noi. Abbiamo cominciato già il 16 marzo a lanciare allarmi, a fare appelli a chi avrebbe dovuto in qualche modo rispondere all'emergenza. E questo non è accaduto. Abbiamo raccolto una serie di testimonianze di cittadini, di lavoratori, di gente che guarda la nostra organizzazione, che hanno testimoniato e lamentato una situazione che avevamo capito dal primo momento stesse diventando pericolosa. Quando a fronte di questo silenzio, a fronte di tutto ciò, non c'è rimasto altro che rivolgerci alla Procura della Repubblica. Io mi auguro che questo intervento possa essere utile affinché si ristabilisca una linea di comando capace di affrontare nell'emergenza straordinaria che viviamo tutte le necessità che stanno affiorando. È quella che vive l'ospedale Umberto I, il pronto soccorso, gli operatori sanitari, la cittadinanza, gli utenti. La vicenda scandalosa di aver tenuto per settimane un pronto soccorso promiscuo fra chi frequentava, fra il paziente del pronto soccorso che si rivolgeva al pronto soccorso per patologie ordinarie e chi invece denunciava un sospetto Covid è davvero imperdonabile. Ci sarà tempo e modo per che affiorino le responsabilità e si raddrizzi quello che obiettivamente sembra una stortura imperdonabile del sistema di direzione generale. Ovviamente se non ricordo male, l'esposto voi l'avete presentato dopo quel famoso video dell'operatore sanitario che ha fatto centinaia, decine di migliaia di visualizzazioni che l'ASP ha inizialmente detto si trattasse di una fake news. In realtà adesso qualcuno giustamente dice che ci si aspetta che l'ASP smentisca la smentita, perché l'ASP aveva affermato trattarsi di una fake news, in realtà poi l'operatore sanitario è stato individuato e quindi giustamente qualcuno adesso dice che ci aspettiamo che l'ASP smentisca la smentita che aveva fatto nei giorni scorsi. Sì, ma guardi la dichiarazione dell'ASP a poche ore dalla messa in onda di quel video è a dir poco imbarazzante, cioè il fatto che si fosse detto sin dall'inizio che non si trattava di un operatore dipendente dall'ASP come dire sembrava davvero molto puerile come dichiarazione, anche perché è davvero impensabile che un operatore esterno, un soggetto esterno sarebbe potuto entrare nel pre-triage che è presidiato tra l'altro anche dalle forze dell'ordine mascherarsi in quel modo e fare il video. Ora al netto dello strumento utilizzato, deprecabile anche dei toni utilizzati dall'operatore che invece risulta essere poi come noto operatore sanitario, io credo che lì emerge in tutta la propria forza il senso di impotenza e di rabbia di chi vive in prima linea un pericolo straordinario sulla propria pelle. Ecco il merito delle cose che vengono dette lì non solo sono in gran parte vere, almeno a noi risultano notari, ma come abbiamo messo nell'esposto sono testimoniate da ben 32 operatori sanitari disponibili a farsi ascoltare immediatamente dal procuratore generale, potendo testimoniare in prima persona quello che stava accadendo e purtroppo sta accadendo in queste ore nella nostra provincia. Ecco, siccome io credo che noi viviamo ancora una situazione di possibile rimedio rispetto a ciò che è stato messo in campo, non c'è un minuto da perdere. Qualcuno prenda le redini della direzione, riprenda una catena di comando adeguata, dia disposizioni non contraddittorie al personale, metta in sicurezza gli operatori, faccia i tamponi immediatamente, quelli necessari innanzitutto per le primissime linee esposte e dopodiché proviamo ad attrezzarci rispetto ad una guerra e una battaglia davvero incredibile e difficile. Senta, segretario, cambiamo argomento, ma non troppo, nel senso che mi piacerebbe affrontare con lei in questi minuti che ci rimangono il tema delle conseguenze economiche di questa gravissima emergenza sanitaria e in particolar modo del look down, cioè del confinamento in cui è stata costretta la popolazione mondiale, insomma si parla di 5 miliardi di persone nel mondo che sono state costrette al confinamento. Le conseguenze sono gravissime, probabilmente lo saranno nelle prossime settimane. Possiamo provare un po' dal vostro punto di osservazione privilegiato che è quello di un sindacato, il maggiore sindacato siracusano, possiamo provare un po' ad avere il polso della situazione in provincia di Siracusa, poi dopo farò riferimento anche a un articolo che peraltro stamattina è stato pubblicato sul quotidiano della Sicilia a firma del Presidente del corso di laurea in economia aziendale dell'Università di Catania che insomma fornisce delle cifre veramente preoccupanti. In provincia di Siracusa? Guardi, questa crisi assolutamente inedita ha messo in luce tutte le criticità del nostro sistema economico e sociale. Non c'è dubbio che non funzionava già prima l'economia così spinta sul piano di un liberismo sfrenato. È necessario rimettere al centro, e credo che sia questa la grande lezione che stiamo subendo in qualche modo a seguito di questa emergenza, occorre rimettere al centro i bisogni delle persone, occorre rimettere al centro le persone al di sopra di qualunque obiettivo liberista del profitto e del guadagno. E per far questo servono investimenti straordinari che siano guidati e governati dal pubblico, dallo Stato, dal governo, dagli enti pubblici, che possano fare da traino poi anche a investimenti privati. Ma fin tanto che non si rimette il lavoro al centro e prima ancora del lavoro la persona al centro e i propri bisogni, noi corriamo il rischio di andare incontro ad una fase recessiva pericolosissima. Quello che accade nella nostra provincia non è diverso rispetto a quello che accade nel resto del paese sotto il profilo economico, ma con un'accezione assolutamente importante. Noi eravamo già in una fase di profonda debolezza della nostra economia e della nostra attività lavorativa. Lo eravamo prima del coronavirus. Siragusa, come il resto del meridione, vive una condizione totalmente disagiata di attenzione al lavoro, con condizioni di disoccupazione altissime, di lavoro nero, di incapacità di trovare sbocchi professionali. Allora dobbiamo rimettere in campo il piano di sviluppo e di crescita che deve tuttavia sganciarsi da quelli che sono stati i paradigmi rispetto a cui abbiamo lavorato nei mesi precedenti. Oggi lo scenario è diverso, serve immediatamente far ripartire le aziende, ma con un programma, un progetto, una visione di sviluppo della nostra provincia che metta insieme certamente un'industria sempre più compatibile e attenta alle esigenze del territorio, che guardia la sicurezza innanzitutto della persona e dell'ambiente, ma anche che provi a sviluppare il potenziale nell'ambito del turismo, dei beni culturali, dell'agricoltura, dei servizi che fino a questo momento è stato in qualche modo compresso. Per far questo sono necessari interventi di investimenti significativamente importanti, infrastrutturali importanti, ma occorre una regia che sia nelle mani del governo e che sia nelle mani del soggetto pubblico. Abbiamo sperimentato e finisco davvero che lasciare tutto nelle mani di soggetti privati spesso spregiudicati, come dire, impoverisce il tessuto sociale del nostro territorio che invece ha potenzialità che devono essere immediatamente messe in luce e devono diventare il volano di sviluppo per una nuova forma di economia che rimetta al centro il lavoro, la persona, la dignità, la salute e la sicurezza di tutti noi. Senta, dicevo di questo articolo che questa mattina è uscito sulle pagine del Quotidiano della Sicilia a firma del Presidente del corso di laurea in Economia Aziendale dell'Università di Catania, in cui si parla di una perdita di circa 6,5 punti percentuali di PIL alla fine del 2020 in Italia, una perdita che in Sicilia passerebbe addirittura al 7%, parliamo di cifre davvero enormi. Mi riallaccio a quello che diceva lei, investimenti, con quale risorse potrebbe obiettare qualcuno? Dove prendere tutti questi soldi per rilanciare il settore produttivo italiano e meridionale, siciliano in particolare, visto che già venivamo da una situazione pesante? Il problema è certamente quello delle risorse, ma prima ancora il problema è quello delle scelte politiche. In Sicilia noi abbiamo mantenuto fino a qualche settimana fa somme enormi, non spese. Se mettiamo insieme le somme che arrivano dai vari canali di finanziamento europeo e non solo europeo, la Sicilia complessivamente ha qualcosa come 17 miliardi bloccati di investimenti e di risorse che non riesce a spendere. Allora questo tema che è stato affrontato e denunciato più volte dalle organizzazioni sindacali e non solo, deve essere immediatamente risolto. Se è un problema di natura di snellimento burocratico lo si avvì con la massima urgenza e qualunque risorsa che in questo momento è disponibile al netto della protezione che va data a tutti i soggetti più deboli e a chi oggi fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, vanno indirizzate per una ripresa del territorio e per una ripresa dell'economia. Ma occorre che da questo punto di vista si cambi veramente il registro. Il lavoro, la persona, l'occupazione devono muoversi in un ambito programmatico che abbia un'idea strategica di quale sviluppo si voglia dare al territorio e in questo caso alla nostra provincia e alla nostra regione. Senza un'idea chiara io credo che continueremo ancora a vivere una condizione di estrema fragilità che non possiamo più permetterci e mi auguro che da questa catastrofe insomma epidemiologica possa risorgere invece un nuovo modello di sviluppo, una maggiore giustizia sociale, un modello che guardi al futuro di tutti noi e in particolare dei giovani che saranno la generazione più colpita da questa crisi. Facevo riferimento a questi 17 miliardi di Euro bloccati, immagino di capire che ovviamente la causa di questo blocco è nella burocrazia, qualcuno dice che probabilmente la burocrazia in Italia farà più vittime del coronavirus o continuerà a fare più vittime del coronavirus e la burocrazia l'ostacolo. Ma guardi che ci sia un bizantinismo burocratico insuperabile nella nostra regione è un dato di fatto, sicuramente dentro questa burocrazia si annida anche spesso la mala politica e non solo, occorre sicuramente snellire le procedure ma allo stesso tempo esercitare i controlli perché queste risorse vadano nella direzione corretta e non prendano strade, come dire, deviate. Per far questo serve una forte capacità di chi oggi ha il dovere di operare delle scelte politiche, di attenzionare per la prima volta l'interesse collettivo di tutta una società che sta soffrendo maledettamente e se ne siamo capaci e Siragusa credo possieda le intelligenze necessarie per poter per una volta fare squadra tutti insieme perché qui è in discussione il futuro, il presente e il futuro di tutti noi e soprattutto dei nostri figli. Senta, segretario, le volevo fare una domanda diciamo più di carattere, non so come dire, umano, sente sulle sue spalle la responsabilità oggi di guidare il maggiore sindacato siracusano in uno dei momenti più difficili della storia probabilmente dell'umanità, non so se dire dal dopoguerra oggi, dal secondo dopoguerra oggi o addirittura probabilmente uno dei momenti più difficili della storia dell'uomo. Il sindacato, tutto il sindacato ovviamente non solo la CGL, nelle prossime settimane sarà chiamato davvero a un grande compito, a un grande ruolo proprio per quello che ha appena detto lei, se la sente questa responsabilità sulle spalle? Guardi, la responsabilità l'avverto tutta fino al midollo, il tema è dovuto anche al fatto che come tutti noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione totalmente inedita, non abbiamo un riferimento come dire storico a cui appellarci per poter capire quali elementi mettere in campo immediatamente per poterne fare tesoro. Questa esperienza sta segnando profondamente la società e la nostra comunità e anche la nostra stessa organizzazione. In queste settimane siamo impegnati fino allo stremo delle nostre forze per stare vicini alla nostra gente. Noi abbiamo nella provincia di Siracusa 19 camere del lavoro aperte in tutte e 19 i comuni per stare accanto e rispondere ai bisogni dei lavoratori, della gente, dei cittadini che nonostante il lavoro agile, il lavoro per appuntamenti continuano a pressare e a affollare le nostre sedi. Questo significa che c'è un bisogno straordinario di tutela della nostra gente, di soggetti in grado di interpretare i bisogni della nostra gente. Mi auguro che a fronte di questa capacità nostra di interpretare i bisogni ci sia altrettanto un cambio di passo di chi deve trasformare i bisogni della gente in scelte politiche e quindi l'appello che io faccio davvero con grande convinzione e anche con grande forza è che sia giunto, credo che sia giunto il momento perché la classe politica anche di questa nostra provincia si faccia carico di queste istanze straordinarie e sia capace di trasformarle in proposta politica. Se questo accadrà e io spero che questa terribile esperienza vada in questa direzione probabilmente riusciremo ad uscirne gradualmente ma con una visione del mondo, del lavoro, dell'etica, del bene collettivo, dello stare insieme che va in una direzione totalmente opposta rispetto al passato. Io credo che questo lo dobbiamo a noi stessi ma lo dobbiamo soprattutto alle future generazioni. Segretario a proposito di visione e di stare insieme non posso non farle una domanda sul tema dell'Europa che ovviamente in questi giorni tiene banco su tutti i telegiornali, sulle maggiori testate, tiene banco ovunque il ruolo dell'Europa, Europa sì, Europa no, quelli che prima erano europeisti convinti oggi forse hanno qualche ripensamento, lei cosa pensa di questo ruolo dell'Europa? Anche io come tutti voi seguo con attenzione le notizie di politica estera ed europea in modo particolare. Il momento drammatico che ha coinvolto l'intera Europa ha sicuramente anche messo in luce alcuni nervi scoperti che c'erano all'interno dell'Unione Europea. Ci sono state dichiarazioni contraddittorie e poi passi indietro del Presidente della Commissione Europea. Sicuramente stiamo anche lì scontando la debolezza di aver fatto un'Europa monetaria ma di non aver ancora costruito un'Europa politica. Anche qui penso che questa terribile esperienza che sta vivendo l'Europa, per non dire il mondo intero ma per stare in Europa, possa essere da monito alla necessità di far presto, di mettere insieme una serie di norme di politica fiscale, di politica lavorativa, di attenzione ai disoccupati, di investimenti, di risorse collettive perché in questa faccenda o ne usciamo tutti insieme o non ne esce nessuno. L'idea che qualche governo, qualche Paese, possa immaginare di avere strumenti di maggiore forza e quindi di poter determinare l'agenda nei confronti di altri Paesi, credo che non funzioni più. Anche questo è un modo di fare politica che è stato archiviato anche da questa emergenza. Spero e penso che il buonsenso la capacità di chi ci rappresenta in questo momento vada in questa direzione. È necessaria un'Europa forte, è necessaria un'Europa solidale, è necessaria anche lì un'Europa che si dia delle regole precise. Senza queste rischieremmo, come dire, di rimanere imprigliati in confini che non sono più tollerabili quale quelle delle singole nazioni. Segretario, la ringrazio al solito per la sua chiarezza e per la sua passione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima. Grazie, grazie ancora, grazie a chi ci ha seguito fin qui. Appuntamento al prossimo Campolungo, gli approfondimenti di WebMarte. Grazie.